Ancora piccole tartarughe caretta caretta nate sui litorali agrigentini. Stavolta il lieto evento, particolarmente apprezzato dagli amanti del mare e dell'ambiente, è avvenuto a Menfi. A nascere sono state ben 81 tartarughine. Le femmine, tra circa 20 anni, torneranno sulla stessa spiaggia per nidificare. Questo è, infatti, quello che fanno le mamme tartarughe marine, quando devono depositare le proprie uova. Tornano sempre per nidificare dove sono nate. Il nido è stato scoperto a Menfi per caso una decina di giorni fa. Già in quel momento erano nate oltre 50 tartarughine, poi recuperate dai cittadini che frequentano il litorale di Lidofiori. Le hanno trovate al buio che si portavano nella direzione opposta rispetto al mare, attratte dalla luce delle varie attività commerciali. Sono state salvate dai Menfitani da una morte certa e liberate in mare dai volontari e operatori dei progetti tartarughe marine e dei Rotartals WWF, intervenuti tempestivamente sul posto. Di concerto con la ripartizione faunistica e la guardia costiera, è stata eseguita adesso l'ispezione del nido, dove sono state trovate in totale 107 uova, di cui 81 schiuse, con quattro tartarughine ancora intrappolate sotto la sabbia, che sono state prontamente liberate in mare. La civiltà è bellezza e la bellezza è natura, commenta Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. Nidi e schiuse di tartarughe sono state registrate in provincia di Grigento negli ultimi anni, anche a Sciacca, di cui l'ultimo circa un mese fa, Real Monte, Siculiana, Giallonardo e Lampedusa. Momenti particolarmente attesi da curiosi volontari e bambini, attratti con stupore da una delle meraviglie che la natura ci offre.